A Ragusa la polizia chiude la prima casa a Lucirossa il 2017 all'interno una donna di origini colombiane, un'ottantenne irreperibile al momento il proprietario dell'immobile che verrà diffidato. Sgominata dalla polizia di Ragusa e Padova un'organizzazione di nigeriani che gestiva una tratta di loro connazionali, c'erano anche giovanissime minorenni che avviavano alla prostituzione. L'Ars approva le nuove norme per velocizzare e rendere più trasparenti gli apparti in Sicilia, nuova sorpresa invece per il voto dell'ex province, voto che slitta al 31 dicembre 2017. I centristi per la Sicilia applaudono per aver raggiunto due obiettivi riguardo alla vicenda della comunità alloggio a Comiso per disabili psichici e potranno essere recuperate a somme per migliaia di euro. Il Codacons applaude ai carabinieri dopo il sequestro nella frazione di San Giacomo di numerosi quintali di prodotti all'atterocasiario ritrovati in cattivo stato di conservazione, un'attentata ai consumatori. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Dunque la cronaca in apertura, avete sentito dai titoli, la polizia che è intervenuta ieri a Ragusa per chiudere la prima casa a Lucirossa nel 2017. All'interno sorpreso un ottantenne con una prostituta, ottantenne che ha ammesso dopo qualche momento di tentennamento, che non si trovava lì per caso, mentre il proprietario dell'immobile al momento irreperibile non appena verrà convocato, poi per lui scatterà la diffide. È stata chiusa a Ragusa dalla polizia la prima casa a Lucirossa nel 2017. Si trova in Valbosisio, attraverso del centralissimo Corso Italia, a segnalare alla questura la presenza di una casa di prostituzione, un cittadino che abita proprio accanto all'immobile. Così, dopo alcuni accertamenti, gli agenti sono entrati in azione e la pattuglia, mentre stava proprio per entrare nell'abitazione, si è imbattuta in un signore che stava uscendo. Si trattava di un ottantenne il quale dapprima ha negato di avere consumato un rapporto sessuale, poi però ha ammesso di aver incontrato, come ha dichiarato, una bella signora matura disposta a tutto. Accompagnati quindi tutti presso la questura, sono bastati pochi minuti per chiarire la situazione. La donna, quasi cinquantenne, di origine colombiana e ma cittadina spagnola, aveva preso in subaffitto la casa da un'altra collega andata via pochi giorni fa. L'uomo invece, ossia l'anziano signora Ragusano, ottantenne, aveva cercato su internet una prostituta, recandosi presso l'indirizzo, che gli era stato fornito telefonicamente dal sito specializzato. Il proprietario dell'immobile, invece, si è reso irreperibile, ma verrà sentito nei prossimi giorni. Per lui, pronto una diffida ad affittare l'abitazione a prostitute, oltre alla verifica di eventuali sue responsabilità penali o amministrative. Sono i giorni della conta dei danni del recente maltempo, soprattutto nel Modicano devastato, come è noto dalle pioggi torrenziali del fine settimana. Ma si stanno cercando di recuperare anche i mezzi rimasti, sepolti da fango e detriti, come vediamo appunto in questa immagine. Mentre ieri è piombato a Modica, come promesso il governatore Crocente, per verificare di persona l'entità di quanto è successo nel fine settimana nella città della Contea, in queste ore si sta cercando di ripristinare, per quanto possibile, anche se affatica la normalità. Ed ieri, ad esempio, il recupero di un camper e di un'autovettura. I due mezzi, a causa delle forti pioggi che hanno determinato la creazione di canali di scorrimento delle acque nelle arti repubbliche, sono finiti contro il muro di sostegno della ferrovia nella tratta Modica-Siracusa. In pratica erano addossate al binario all'altezza del passaggio a livello per cicli. Una squadra di vigili del fuoco, quindi, munita di autogru, dopo aver coordinato le attività con la Rete Ferrovia Italia per la sospensione del traffico ferroviario, ha operato il recupero di due automezzi, all'arco di tempo, dove non sono peraltro previsti transiti di treni. Le operazioni di recupero, iniziate verso mezzogiorno, sono state ultimate poi verso le 14. Sempre a causa del recente maltempo, invece, la frazione di San Giacomo, frazione di Ragusa, è rimasta isolata per circa 48 ore, e sono già avviati comunque gli interventi per ripristinare lo stato dei luoghi dopo i solleciti da parte del PD. In queste ore dovrebbero essere predisposti e quindi immediatamente concretizzati gli interventi dalla Protezione Civile, oltre che del Libero Consorzio Comunale, per sgomberare le strade che collegano Ragusa alla frazione di San Giacomo da presenze indesiderate e questo dopo il recente maltempo che ha imperversato anche in questa zona nel fine settimana. È quanto sottolineo dal PD di Ragusa dopo le segnalazioni raccolte dai residenti e dalle zone rurali mitrofe che sono rimaste isolate dal capoluogo per circa 48 ore. La situazione complessiva, rilevano ancora dal PD, è molto delicata e per questo motivo è necessario intervenire nella maniera più rapida possibile ed è già da un paio di giorni che i cittadini residenti nella frazione stanno facendo i conti con problemi di notevole portata per cui si confida nella capacità degli operatori di protezione civile, oltre che in quella dei funzionari di Valle del Fante, per una rapida soluzione della vicenda e questa affinché la rete viaria, concludono il PD, possa tornare ad essere fruibile nella maniera migliore. Sgominata dalla polizia in collaborazione, quella di Ragusa, con i colleghi di Padova, un'organizzazione formata da nigeriani che gestiva una tratta di loro connazionali. C'erano anche giovanissime minorenni da avviare alla prostituzione. Operazione che si chiama Broken Chains è coordinata dalla DDA della Procura di Catania. Un gruppo di nigeriani, considerati il terminale in Italia di un'organizzazione che gestiva a Padova una tratta di loro connazionali, comprese giovanissime minorenni da avviare alla prostituzione, è stato sgominato da un'operazione della polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla DDA della Procura di Catania. Sono sei nigeriani fermati dalle squadre mobili del capologhi bleu di Padova. Due di loro erano ricercati in esecuzione di un mandato di cattore europeo emesso dal Belgio. Tre dei fermati sono indagati per tratta di persone umane, comprese minorenni e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Uno per tratta di una connazionale minorenne e due per traffico di stupefacenti legata alla tratta umana. I fermi sono stati convalidati dal GIP di Padova, che ha emesso cinque ordinanze di arresto, escluendo una donna madre di una bambina di pochi anni. In carcere sono così finiti Godimin Hiden, di 38 anni, Monda Hiden, sempre 38 anni, Osazi Eben Alia, di 28 anni, Usaz Harrison, di 31 anni, Laki Ayeki, di 35 anni, e infine Nosa Uriac, di 24 anni. A scoglitti e vade dagli arresti domiciliari, finisce in manetto un 26enne da parte dei carabinieri. Il giovane, ieri era appunto per le vie della frazione, ha tentato di accelerare, hanno appena visto i militari, ma è stato subito fermato e ricondotto a casa. Gli inquirenti stanno adesso vagliando attentamente la posizione del giovane per accertare le ragioni per le quali non si trovasse a casa. Importante novità in Sicilia per quanto riguarda le regole sugli appalti. L'Assemblea regionale ha infatti approvato alcune nuove norme per velocizzare e renderle più trasparenti. Per quanto riguarda invece il voto sull'ex provincia, ancora una sorpresa, tutto rinviato al 31 dicembre 2017. L'Ars ha approvato ieri le modifiche delle regole degli Ureghe, ossia gli uffici che regolano gli apparti nell'isola. Con le nuove norme tutto sarà infatti più trasparente e veloce. Con questa approvazione ha dichiarato il governatore Crocetta, si sblocca finalmente la situazione degli apparti, mentre per l'assessore all'infrastruttura Giovanni Pistorio, con questa modifica degli Ureghe, contiamo di ottenere una velocizzazione significativa delle gare di appalto. Tante opere potranno quindi essere sbloccate grazie ai fondi comunitari del patto per la Sicilia, dando così ossigeno al settore dell'edilizia, che è quello che ha più sofferto la crisi economica. È stata prevista anche la realizzazione di un procedimento istruttorio propedeutico all'esplettamento delle gare, nonché una differenziazione tra la commissione di gare e quella giudicatrice. Ieri intanto, sempre Lars, smentendo in pratica se stessa, ha ulteriormente rinviato le elezioni per l'ex province. Se ne riparlerà adesso al prossimo 31 dicembre. Si tratta del quarto rinvio, con la vicenda che sembra assumere sempre più i toni di una farsa. Si svolgerà domenica prossima, domenica 29 gennaio, presso la sala Sciascia a Chiaramonte-Gulfi, un incontro con la cittadinanza promossa da Gaetano Iacono, candidato sindaco alle prossime elezioni. Ricercatore in biotecnologia, agrare e virologia presso l'Università degli Studi di Catania, Iacono ha deciso di candidarsi a sindaco perché, ha affermato, crede nella politica come la più alta delle attività umane e come strumento in grado di generare vero cambiamento e benessere per le comunità. L'ex presenta alla regione Salvatore Cuffaro, domani si laurerà in giurisprudenza, tornato in libertà dopo aver scontato il carcere per favoreggiamento alla mafia, e per lui domani il gratificante traguardo. L'ex presenta alla regione siciliana Salvatore Cuffaro, condannata a sette anni per favoreggiamento aggravato alla mafia e tornato in libertà l'anno scorso, dopo aver scontato la pena, domani si laurerà in giurisprudenza alla Sapienza di Roma. La tesi presentata per titolo contrasta al sovraffollamento carcerario tra Costituzione e Convenzione europea. Relatore il professor Giorgio Spanger, sul frontespizio della tesi due dediche, un alpapacuil ascesa al cielo e avvenuta senza che il carcere abbia consentito di essere presente, l'altai detenuti, fine appena mai, che hanno scelto di morire una sola volta piuttosto che morire ogni giorno. Ho avuto quasi tutti trenta e lode, ha dichiarato l'ex governatore della Sicilia, ricevendo esperienze fortissime come quella appunto della detenzione. Non dimenticherò poi l'esame col professor Di Liberto, già ministro della giustizia, mi ha guardato a lungo, poi mi ha abbracciato commosso. I centristi per la Sicilia dei coordinamenti di Comiso e Pedalino plaudono in questione al fatto di aver raggiunto due obiettivi riguardo alla vicenda della comunità alloggio per disabili psichici e ce lo spiegano in questo servizio. Apprendiamo con soddisfazione che la nostra iniziativa nel richiedere una visita ispettiva al comune di Comiso per verificare la corretta applicazione delle tariffe sull'attività della comunità alloggio per disabili psichici è servita a centrare due obiettivi. E quanto affermano i centristi per la Sicilia Comiso e Pedalino, direi dei quali, grazie alla loro iniziativa, il comune casmeneo recupererà centinaia di migliaia di euro. Ma quali sono questi due obiettivi centrati? Il primo è che il comune da quest'anno si sta adoperando a rispettare le giuste dovute direttive emanate dalla regione. Il secondo è che sempre l'ente comunale si sta adoperando, a quanto risulta, a far predisporre gli atti necessari per il recupero di somme provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale. Si tratta di circa 800.000 euro che, se recuperate, potranno essere utilizzate nel settore delle politiche sociali e quindi a favore di famiglie disagiate, disoccupate, anziane e portatori di handicap. Dispiace solo, affermano dai coordinamenti di Comiso e Pedalino, che un'azione finalizzata a stimolare l'amministrazione comunale venga recepita come una critica strumentale, critica che addirittura rasenta la minaccia. Il nostro però vuole essere solo un contributo costruttivo, concludono i centristi per la Sicilia, e finalizzato nell'interesse esclusivo e primario della città. Versa in uno stato di totale abbandono la rotatore incontrata a Mugno all'ingresso di Ragusa, col parco commerciale Isole Ble che diffida l'IRSAP. Da mesi dicono che sollecitiamo un intervento concreto, ma le nostre istanze continuano a cadere nel vuoto. Numerosi, sottolineo dal parco commerciale, gli utenti che giornalmente si trovano a transitare per questo tratto che, oltre ad essere uno dei più importanti per consentire il collegamento da e per Ragusa, serve anche da snodo viario per le tante esigenze dell'area industriale. Ma sono sempre numerose le buche che fioriscono, tra virgolette, in tutte le stagioni, che, oltre ad attentare alla sicurezza stradale, causano seri danni agli automezzi. Il Codacons, plato in queste ore ai carabinieri dopo il sequestro, nella frazione di San Giacomo, di numerosi quintali di prodotti lattiero-caseari ritrovati in cattivo stato di conservazione. Secondo il Codacons è stato in pratica sventato un attentato alla salute dei consumatori. L'ennesima attentata alla salute dei consumatori, così il Codacons ha commento del sequestro di circa 73 quintali di prodotti lattiero-caseari ritrovati in cattivo stato di conservazione presso un'azienda della frazione di San Giacomo, durante alcune normali operazioni di controllo e con la sorpresa per il carabinieri di Ragusa-Ibla e del NAS del capoluogo. In particolare, dall'ispezione igienico-sanitaria effettuata presso l'azienda zootecnica in questione, che produce commercio a latticini e formaggi con certificazione biologica, sono emerse violazioni sia di tipo edilizio, quale l'ampliamento abusivo di locali, sia di tipo sanitario per le condizioni di scarsa igiene riscontrate, quale ragnatele nei soffitti o polvere di residui caseari ammuffiti. Nei laboratori, inoltre, sono stati rinvenuti prodotti in cattivo stato di conservazione che i militari hanno sequestrato, il cui valore si aggira intorno ai 90.000 euro. Nelle celle frigorifere, infine, rinvenute anche 270 bottiglie di latte fresco pastorizzato destinata alla vendita, con data di scadenza superiore ai 6 giorni dall'avvenuta pastorizzazione. Il nostro applauso lo va quindi ai carabinieri, il commento dei vertici Codacons, per il tempestivo intervento a tutela della salute dei cittadini. E nella mattinata di oggi Ragusa, a seguito di una fuga di gas che si è registrata nella conduttura della rete metanifera, nella zona sottostante il Ponte Nuovo, il comando della Polizia Municipale ha disposto per motivi precauzionali la chiusura al transito di un quadrilatero adiacente via Roma. Per tale motivo, sempre per motivi precauzionali, sono stati fatti evacuare i dipendenti di alcuni uffici e il residente all'abitazione esistente nelle vicinanze di Piazza Libertà. Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano, sarà cittadino a Donoram di Gela. Lo ha deciso il sindaco Domenico Messinese. Per Camilleri si tratta del terzo prestigioso riconoscimento in materia. Lo scrittore Andrea Camilleri sarà gelesa da Donoram. Lo ha deciso il sindaco Domenico Messinese dopo aver condiviso questa scelta con la Commissione Consigliere alla Cultura. Gli atti saranno adesso trasmessi al Consiglio Comunale, che dovrà deliberare ufficialmente la cittadinanza onoraria al papà del commissario Montalbano. Lo scrittore, originario di Porta Empedoc, tra l'altro, proprio all'inizio della sua carriera, riceve a taggeare il suo primo premio letterario. Era l'aprile del 1981 e Camilleri venne premiato per un filo di fumo. Gela è legata a Camilleri, ha commentato lo stesso Messinese, e non solo perché nei suoi romanzi trova spazio col pseudonimo di Fela. Il migliore amico dello scrittore, ossia Federico Effer, risiede proprio a Gela e al loro rapporto di amicizie è dedicato un libro scritto da due giornalisti gelesi e uscito lo scorso anno. Sono quindi diverse le ragioni per cui Gela non poteva non tributare la sua riconoscenza a Camilleri. Un acuto osservatore della nostra Sicilia ha rimarcato il sindaco nei suoi pregi come nelle sue contraddizioni. Per Camilleri dunque con quella di Gela sono tre le cittadinanze onorali ricevute dopo quella di Santa Fiorentoscana nel 2004 e di Agrigento lo scorso febbraio. Breve pausa adesso, linea alla regia. Eventi Sicilia.tv Il quotidiano online Ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventi Sicilia.tv L'informazione più veloce e sempre aggiornata. Siamo al riepilogo dei fatti nel primo piano. A Ragusa la polizia chiude la prima casa a Lucirossa il 2017 all'interno una donna di origini colombiane un'ottantenne irreperibile al momento il proprietario dell'immobile che verrà diffidato. Allora arrivo nella casa segnalata da un vicino gli agenti si sono imbattuti nell'anziano che stava uscendo. Dapprima l'uomo aveva negato di aver consumato un rapporto sessuale poi in quest'ora ha invece ammesso la presenza nella casa. Sgominata dalla polizia di Ragusa e Padova un'organizzazione di nigeriani che gestiva una tratta di loro connazionali c'erano anche giovanissime minorenni che avviavano alla prostituzione. Sei in tutti i nigeriani della banda fermati dalle forze dell'ordine sotto le direttive della DDA di Catania i fermi sono stati convalidati dal GIP di Padua che ha escluso però una donna madre di una bambina di pochi anni. L'Arsa approva le nuove norme per velocizzare e rendere più trasparenti gli appalti in Sicilia. Nuova sorpresa invece per il voto dell'ex province voto che slitta al 31 dicembre 2017. Con questa approvazione delle norme sugli appalti ha dichiarato il governatore Crocetta si sblocca finalmente una situazione che rischiava di incancrenirsi tante opere potranno così essere sbloccati con i fondi comunitari del patto per la Sicilia. I centristi per la Sicilia applaudono per aver raggiunto due obiettivi riguardo alla vicenda della comunità alloggio a Comiso per disabili psichici e potranno essere recuperate somme per migliaia di euro. Primo obiettivo col comune impegnata a rispettare le direttive della regione. Secondo obiettivo raggiunto invece la presisposizione degli atti necessari al recupero di ingenti somme di denaro proveniente dal Fondo Sanitario Nazionale. Il Codacons plaudo è carabinier dopo il sequestro nella frazione di San Giacomo di numerose quintali di prodotti latteri o caseario ritrovati in cattivo stato di conservazione un'attentata ai consumatori. Emersi in particolare violazioni sia di tipo edilizio quale ampliamento abusivo di locali sia di tipo igienico sanitario per le condizioni di scarse igiene riscontrate quale ragnatele nei soffitti e polveri di residui caseari ammuffiti. Con Repilogo è tutto grazie per averci seguito appuntamente alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video